Una fenditura di circa 40 centimetri in una delle tante e obsolete tubature in ghisa grigia dei sottoservizi idrici della nostra città e 80 famiglie rimangono senza acqua. E' successo la scorsa notte, poco dopo le due, in piazza Sansovino. Sospesa la fornitura d'acqua, un'ottantina di appartamenti degli stabili in zona rimasti all'asciutto dalle tre di questa notte, da quando cioè si sono messi al lavoro tecnici e operai a Cegas APS AMGA per riparare il guasto. Come detto, la tubatura in ghisa grigia si è rotta per obsolescenza lungo una fenditura di circa 40 centimetri e ha provocato inizialmente una rottura del manto stradale di alcuni metri a causa della pressione. Il pronto intervento è giunto sul posto immediatamente e già dalle 8 di questa mattina la squadra ha individuato il guasto dopo aver ripulito le strade adiacenti dal terriccio. Per consentire l'intervento si è resa necessaria l'interruzione del servizio idrico a due stabili antistanti la piazza. Per ovviare il disagio, a Cegas APS AMGA ha installato nei pressi del cantiere una fontanella di approvvigionamento idrico per le famiglie rimaste senza acqua. Altre segnalazioni di acqua colore marrone dai rubinetti sono giunte alla nostra redazione dalle zone di San Giacomo e San Vito. I lavori hanno comportato per alcuni metri il restringimento del traffico proveniente da Piazza Vico su una carreggiata.